Ciao, benvenuti a Cazzeggio Catabiotico Ciao a tutti, benvenuti ad un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico anche questa puntatona dal colore di retrocomputing oggi parleremo del Network Personal Computer, ossia il NetPC il Network Computer fu ideato dalla Acon Computers Limited nel 1996, assieme alla consulenza della Oracle come dice il nome, il NetPC non era un computer normale a livello hardware, il NetPC aveva un processore Anum da 40 MHz capace di 35.9 MIPS inoltre aveva di base 4 MB di RAM, ma poteva essere espanso fino a 12 MB inoltre aveva una presa grafica VGA il NetPC, udite, 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 non aveva disco rigido udite, 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 il NetPC non aveva disk drive udite, 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 il NetPC non aveva un CD-ROM il sistema operativo era l'NCOS, ottimizzato per i processori ARM e derivato dal RISC-OS dell'ACORN il NetPC era disponibile in due versioni uno dotato di modem e un altro dotato di scheda di rete praticamente identici il primo NetPC, quello con il modem, era pensato per un uso casalingo ossia home computing mentre il NetPC dotato di scheda di rete era pensato per il segmento business computing l'idea del NetPC era che l'utente di casa, quanto l'operatore che lavorava in ufficio non avesse in realtà davvero bisogno di tutti quei programmi che giacevano sul proprio disco fisso e che erano installati e spesso anche fonti di problemi invece per gli utenti Windows nel settore dell'home computing che nel lontanissimo 1996 gli utenti di Windows 95 smadonnavano continuamente con il registro di Windows 95 mentre NT4, Workstation il sistema operativo per il segmento business computing all'epoca assorbiva enormi quantità di spazio sul disco fisso molta RAM assorbiva tempo macchina rallentando continuamente l'uso del computer ad ogni aggiornamento il NetPC era concentralmente vicino all'idea di terminale vecchio terminale solamente che il NetPC era dotato di un sistema operativo quindi sarebbe stato ed era capace di gestire le periferiche locali cosa che un terminale tradizionale non ne sarebbe stato capace il NetPC avrebbe dovuto udite, udite, udite scaricare il software via internet da essere poi processato in locale a seconda delle necessità dell'utente senza dover usare costose periferiche hardware come dischi fissi, dischetti, dischimoni e quant'altro ora il progetto del NetPC si fondeva su due tipi di software il software gratuito un ampio e primo pacchetto di software che poteva essere scaricato online gratuitamente tutte le volte che sarebbe stato necessario e poi processarlo in locale questo ampio pacchetto software avrebbe soddisfatto tutte le necessità di un utente home computing mentre per gli utenti del business computing oltre a tutto il software gratuito che c'era disponibile per l'home computing come WordProcess o Spreadsheet e Database per gli utenti del business computing erano stati pensati disponibilità e funzionalità più potenti del software da noleggiare oppure applicativi da noleggiare per l'uso tramite lo scaricamento via internet quindi applicativi specifici ad esempio come quelli di contabilità e quant'altro ora, il progetto del NetPC fu un enorme flop commerciale in primo luogo perché nel 1996 nessuno sul pianeta Terra aveva intenzione di rinunciare a un disco fisso ad un disco rimuoribile oppure ad un CD-ROM per non disporre più un locale di tutto il software di cui avrebbe potuto avere potenzialmente bisogno ecco, nel 1996 non era accettabile per gli utenti l'idea di, diciamo, rinunciare ai propri software comprati o noleggiati e di dipendere da una connessione internet ecco, anche perché sin dall'inizio dell'informatica in particolare nel segmento home computing tutti gli utenti erano abituati a disporre in locale su archivi fissi o rimuovibili cassette, dischetti, dischi fissi e quant'altro del software che poi via via era necessario o si voleva far processare secondo luogo, sempre nel 1996 ecco, soprattutto le connessioni internet erano molto lente quindi il progetto del network pc sarebbe collassato e la lentezza delle connessioni internet dato che tutte le volte che sarebbe stato necessario utilizzare un programma lo si doveva scaricare il software non era installato ma solo processato in RAM e quindi una volta che si spengeva il computer il software, addio, si perdeva tutto inoltre, terzo punto la grafica del net pc non era eccezionale una VGA mentre nel mondo pc con windows andavano diffondendosi la mania del gioco degli sparatutto tipo FPS first person shooter e quindi il net pc non poteva installare schede grafiche potenti come invece potevano fare i pc inoltre, nel segmento business computing il net pc fu un flop per le stesse ragioni anche se la macchina aveva una scheda di rete ethernet ecco, nel segmento business l'idea di aiutare gli impiegati di un computer senza software non piacque all'azienda che ormai si erano abituati al personal computer e dai pacchetti software che una volta installati si utilizzavano semplicemente facendo buttare la macchina e senza dipendere appunto da connessioni internet che potevano essere lente e bloccare tutta l'attività di lavoro burocratico in un ufficio il net pc è certamente a mio avviso un hardware di retrocomputing da rintracciare e conservare per due ragioni prima ragione perché l'idea del network ci fondeva nella stessa macchina sia diciamo un hardware utile per il segmento home computing quanto quella per il business computing infatti la differenza tra le due macchine è minima dipende solo dal modem oppure da una scheda di rete quindi l'idea era di avere enormi diciamo sinergie nell'ambito della produzione essendo la macchina praticamente identica il secondo punto è che dalla fallimentare ideal del net pc con i suoi software da scaricare per gli utenti ecco nacque per gli smartphone vari anni dopo il mercato delle app che apple ebbe a riproporre clonando appunto l'idea del net pc salvo il fatto che le app sulle smartphone sono installate in locale che occupano poco spazio di memoria e sono però distribuite via internet con un'architettura client server proprio come il net pc per questa puntata è tutto un saluto ciao alla prossima